Il vero concetto dell'educazione del cane è quello di estrarre il medio delle sue potenzialità. Molti si chiedono se sia corretto usare il bocconcino nell'educazione del cane. Da questa domanda si sono aperti divari tra chi ha un approccio mentalistico e chi ha un approccio che si basa prettamente sulla performance e sul comportamento. Ovviamente il bocconcino è uno strumento di educazione ed addestramento, ma vediamo se veramente è corretto usarlo oppure no. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog ed oggi faccio questo video per spiegare l'uso del bocconcino nell'educazione del cane ed anche nella rieducazione e soprattutto anche per trasferire ai neofiti e quindi anche ai futuri no. educatori cinofili il suo corretto utilizzo. L'uso del bocconcino o meglio definito rinforzo è stato introdotto da Burrus Kinner che è colui che inventò la teoria del condizionamento operante. Kinner all'interno del condizionamento operante definì due tipologie di comportamento, uno rispondente ed uno volontario. Il comportamento rispondente è il comportamento che fondamentalmente deve essere premiato anche quando non è richiesto, mentre il comportamento volontario è quello che il cane emette per arrivare a prendere il bocconcino. Ecco, da qui deriva poi la famosa conseguenza che è il rinforzo o il premio che serve per aumentare la frequenza del comportamento che il cane sta emettendo. Skinner insieme al concetto di rinforzo e di comportamenti operanti e rispondenti introdusse anche il concetto di modellaggio. Che cos'è il modellaggio? Il modellaggio fondamentalmente è premiare ogni approssimazione del comportamento finale. Vuol dire che se io voglio il mio cane perfettamente seduto ed allineato alla mia gamba sinistra io dovrò andare a premiare tutte le approssimazioni che portano a questo obiettivo. Per prima cosa se si siede in maniera obliqua premierò quello, poi quando sposterà il sedere sempre di più verso la mia gamba sinistra arriverò a premiarlo fino a portarlo nella posizione desiderata e che io considero corretta. In tutti questi step il cane va premiato. Maschiner introduce anche il concetto di piani di rinforzo che fondamentalmente servono per andare nel tempo a togliere il rinforzo primario, in questo caso il cibo, per arrivare a sostituirlo con un rinforzo che lui definisce secondario come per esempio la carezza o il bravo. In tutti questi passaggi non si parla di mente ma si parla esclusivamente di performance e tutte le applicazioni che il tecnico sta facendo ma semplicemente anche il proprietario sono rivolte all'esecuzione dell'esercizio, del seduto o di qualsiasi altra tipologia di esercizio. Capirai che in tutta questa storia manca effettivamente un pezzo. Nelle teorie comportamentiste non è riconosciuto il valore di mente del cane ma sappiamo benissimo che il cane sia con le età evolutive quindi da cucciolo, da giovane ma anche da adulto ed anziano cambia il suo modo di approccio agli eventi, all'ambiente e soprattutto trova delle nuove strategie per affrontare sempre di più nuove esperienze in modo tale da creare delle connessioni neonorali che possono servirgli per accorciare i tempi di apprendimento e di esperienza. Per far sì che il cane impieghi minor tempo dobbiamo riconoscergli come già detto prima il valore di mente e quindi anche di quelli che vengono chiamati nell'approccio cognitivo processi nascosti. Io ai miei allievi dico sempre c'è quello che si vede ma dobbiamo stare attenti di più a quello non si vede, cioè a tutti quei meccanismi intrinsechi che il cane mette in atto per arrivare in maniera molto veloce e molto breve all'obiettivo. Ecco questa è una grandissima potenzialità del cane e solo noi tecnici possiamo esaltarla. Con questo non voglio dire che l'uso del bocconcino sia scorretto, anzi l'uso del bocconcino è corretto all'interno dei processi di addestramento e di educazione ma quello che deve cambiare è il nostro approccio all'uso del bocconcino e del rinforzo. Non dobbiamo dargli un'accezione prettamente performativa ma dobbiamo capire che per arrivare all'uso del bocconcino e quindi ad acquisirlo il cane emette tutta una serie di strategie molto molto complesse. Chiaramente il rinforzo non è visto solo come cibo ma il rinforzo per un esercizio corretto o semplicemente per un comportamento corretto può anche essere il gioco, il contatto sociale, il contatto verbale, può essere buttarsi per terra e giocare insieme. Tutto questo rappresenta un accumulatore di relazione tra te e il tuo cane ed è giusto che tu sappi erogare questi premi in tutte le situazioni che l'ambiente vi propone. È corretto quindi l'uso del bocconcino? Sì, l'uso del bocconcino all'interno dei processi di addestramento è corretto ma ciò che dobbiamo fare per dare un'accezione diversa all'uso del bocconcino è osservare il nostro cane e capire veramente che cosa gli piace di più ricevere quando ha compiuto un comportamento che noi riteniamo corretto. Spero di esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube e di seguire i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog.educazionecinofila.